Un saluto veloce, dei contenuti non parlo perché adesso inizierà la tavola rotonda che tutti stiamo aspettando, però era doveroso ricordare e ringraziare innanzitutto tutti voi, perché noi siamo qui oggi, Expo 2015, perché abbiamo iniziato quattro anni fa a ragionare innanzitutto col Cardinale Maradiaga, si ricorda il nostro incontro che abbiamo fatto per valutare se era importante la presenza di Caritas in Expo, per ringraziare quindi tutti i suoi collaboratori, in particolare Michel Roy, segretario generale di Caritas Internazionalis, con i suoi collaboratori, Alfonso, Martina e tutti quelli che hanno condiviso con noi insieme a Caritas Italiana, allora c'era Monsignor Merisi, oggi c'è Monsignor Bressan con Paolo Becegato, il Vice Direttore e naturalmente la Caritas Ambrosiana, Don Roberto, il Presidente Monsignor Bressan Luca, per non confondere con quello di Caritas Italiana, e questo percorso ci ha subito posizionato su un tentativo di portare a Expo tutto il percorso che le Caritas nel mondo fanno quando incontrano le persone che soffrono la fame, le persone che non hanno una vita dignitosa e si trattava di portare un contributo che non si appiattiva sull'assistenza e sulla beneficenza, ma su un contributo che andava al cuore del problema e con la campagna Una sola famiglia umana, cibo per tutti, l'abbiamo focalizzato, che era il diritto all'alimentazione. Dovevamo uscire dall'equivoco che la fame è una questione inevitabile, che non possiamo non convivere con questa situazione, ma dovevamo andare alla radice del problema, alla rimozione delle cause, a riconoscere che solo attraverso il riconoscimento del diritto all'alimentazione come un diritto fondamentale di tutti i cittadini, allora si poteva sconfiggere la fame e la campagna è stata promossa proprio per arrivare a Expo con dei contenuti e soprattutto con delle iniziative concrete che potevano essere proposte e condivise a tutte le realtà che in Expo arrivavano. Questo percorso è stato fatto. I rappresentanti delle Caritas nazionali che sono qui hanno svolto con le loro caratteristiche e le loro condizioni questa campagna. Noi in Diocesi di Milano, ma anche le Diocesi Lombardi e le Diocesi italiane hanno portato avanti un'opera di sensibilizzazione, di cambio degli stili di vita, di denuncia anche delle contraddizioni, dello spreco che abbiamo anche qui da noi, perché si arrivi a capire che solo attraverso una seria lotta alla povertà, solo attraverso una seria azione anche politica, anche istituzionale di riconoscimento del diritto al cibo, si può sconfiggere la fame e questa situazione. Noi saremo presenti in Expo con l'edicola, la Caritas ha l'edicola a dividere per moltiplicare, con gli eventi, faremo oltre a questi eventi una decina di altri convegni per portare ai temi l'attenzione sulle migrazioni, sui conflitti, sulle povertà alimentari. Faremo anche delle azioni concrete, abbiamo già iniziato a raccogliere in questi primi dieci giorni delle eccedenze di Expo e le abbiamo portate nelle mense, qui ci sono alcuni di voi che stanno utilizzando queste eccedenze e porteremo avanti questa iniziativa durante i sei mesi per arrivare poi all'inaugurazione del Refettorio Ambrosiano, che è quell'iniziativa che la Diocesi di Milano insieme alla Caritas Ambrosiana ha voluto realizzare per fare un lascito, per lasciare dopo Expo un'iniziativa concreta che dia dignità alle persone, in questo caso di Milano. Ma la cosa fondamentale che vogliamo fare è quella di, in questi sei mesi, di continuare quest'azione di sensibilizzazione di tutti i partecipanti sul diritto all'alimentazione e soprattutto sul dopo Expo noi vogliamo monitorare che tutte le intenzioni, tutte le firme che verranno raccolte anche sulla Carta di Milano, che è focalizzata anche questa sul diritto all'alimentazione, poi vengano realizzate dai governi, dalle imprese che lo firmano. Noi abbiamo qui i delegati di tutto il mondo, abbiamo gli operatori Caritas anche della Diocesi di Milano, delle Diocesi Lombarde, italiane eccetera. Con tutte queste persone noi monitoreremo, faremo un'opera di monitoraggio perché questa azione di riconoscimento del diritto all'alimentazione, del diritto al cibo sia reale, perché da soli non ce la possiamo fare, non è una questione di beneficenza. Il Papa Benedetto nella sua enciclica Caritas in Veritate diceva che c'è anche la povertà istituzionale, c'è anche la povertà di istituzioni. Quando mancano le leggi, quando mancano azioni concrete che vengono fatte dalla collettività anche attraverso delle politiche, allora tutto questo ricade soprattutto su coloro che sono poveri, soprattutto su coloro che sono deboli, perché non gli vengono riconosciuti i diritti. Noi vorremmo agire e portare avanti la nostra iniziativa qui in Expo e anche dopo in Expo su questa linea. Ringrazio ancora perché, va detto, la Santa Sede, questa iniziativa del 19 maggio è condivisa tra Caritas Internationalis e la Santa Sede. Voi sapete che la Santa Sede ha un padiglione in Expo non di solo pane, è già stato citato. Ringrazio Monsignor Segundo Tegliado e il Dottor Paglialonga che sono stati inviati dal Cardinale Ravasi che è il Commissario per la Santa Sede in Expo che porta i saluti in questa occasione e a tutti i partecipanti e quindi con questa partecipazione corale della Chiesa coordinata dalla Diocese di Milano dobbiamo ringraziare anche il nostro Cardinale Scola che negli interventi di Sant'Ambrogio e in tutte le sue attività pastorali in questi ultimi due anni ha dato un forte impulso a vedere l'Expo come una grande occasione provvidenziale per le nostre comunità e per la città di Milano. Con tutta questa partecipazione corale noi vogliamo essere in Expo come una presenza significativa, con una presenza che porta una coscienza critica, porta al visitatore un punto di domanda alla quale poi qualcuno, compreso noi e le istituzioni e le imprese qualche risposta dovranno dare. Grazie.